Oggi 23 marzo con Pasquale Zanetti. Pasquale, buongiorno. Buongiorno, Peppe Sino. Tutto bene? Allora, allenamento oggi con i canoni a bai e con il nostro amico Diego, grande Diego. Ricordiamo macellerie Diego. A breccia, a breccia. Macellerie a breccia, ricordate, se volete una carne di qualità andate da Diego a breccia. In via Mezzuno. Via Petrarca. Via Petrarca. In via Purecchi di qua, guardi come sopporto. Vabbè, vabbè. Poco prestata per andare a mangiare. Pongo, ritorniamo a noi, qua stiamo in Maurizio Rossetti. Ecco, 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 ecco. Ma è Paolo, dì. Chi lo hai fatto? E' Paolo, vai Pietro Paolo. Stai aspettando il Maurizio Rossetti. Ma tu hai chiesto... Hai fatto una preghiera al Papa. Una preghiera al Papa. Si Papa. 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 Non si chiude. No, non si chiude. Mi chiedi. Mi chiedi. No, io sono andato. Ma tu fai il Papino allora? Io non sono andato. Io sono venuto a tutti perché Papa mi ha chiamato. I primi ci hanno fatto una cassa di bottone e cosa. E dove hai cominciato? Siamo alla bellezza di 600 km in questa settimana. Però beh, fammi una cortesia. Guardi, guardami per dire il corso. Poco non mi lascia bello. Poco, non mi lascia bello. Io ti sorreggo. Ti dico allora? Tutto bene. Io sono andato da Papa, ragazzi. Non si poteva mancare. Dopo 25 anni. Io, cara signora Zanetti, mi sta accusando di una cosa che io non mi sono nemmare nel cielo. E qua io sono tassi in nuve. E qua io sono tassi in nuve. Sempre. Anche per me. Grazie. Anche per te. E proprio, io sono un ragazzo a questo punto. Quanto per me. Ecco qua. A questa pure. Bello. Arrivederci. Beppe, allora oggi che cosa hai intenzione di fare? Cosa hai intenzione di fare oggi? Cosa hai intenzione di fare oggi? Di riposarmi. Di fare un po' di scarico. Io trovo i penuri al bacco. Come hai fatto sempre per fare altre volte. Posso mettere i penuri al bacco. E grazie. Grazie, ragazzi. Vi voglio bene. Ehi. Presidente Nero. Ma sai come sta a ingazzare? Sembra Nero. Ma arriva da sotto e porta la pioggia. Ragazzi, io scherzo. Ehi. Voglio bene. E allora. Ci è venuta il bacco. Lello Poiano. Un piacere. Gestore del Conad di Pia Consolva. Ricordatevi tutti. Andate a comprare i prodotti del Conad. Che sono prodotti ottimi. E' un proprietario. E' un gestore proprietario. Comunque. C'è qualcosa da dico. In due a curva. Ma oggi va bene. Confesso. Sì. Sì. Comunque su Naviglia e Triestina. Acquistata da Tony Daniello. E' il nostro amico. Luigi. Luigi. Gigi Romarino. Tu è ton per me. Luigi Romarino. Per i ciclisti. Saluto. Posso fare un saluto? A tutte le vostre ammirature. Allora viene Gigi. No. Adesso mi sto mandando. Ma voi vi mandano allora? Eh. Chi vi manda? E' Pasquale. Certo Pasquale e Zanetti. Zanetti. Quattro anni. Quattro anni. Sempre quattro anni. Gigi. Ma direi una cosa. E' proprio. Quando vorremmo a Cerco. E' come il Presidente Niro. Finalmente. E' all'occasione di allenarci. Insieme a Giuseppe Sino. Carmene Niro. Presidente di Pianura e Balca. Con la nuova divisa estiva. Di colore verde. In Pantano con la Pia. Poi sei in Bernano. 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 Allora. Sto. Sento un po' fritto. Si. Quindi gli allenamenti come hanno, Niro? Siamo in un gioco. Poi parteciera. Pianura Balca. Sono grandi atleti. E lo posso dire tranquillamente. Poi. Poi facci una cosa a lui. Facci una cosa a lui. Allora Zannetti mi accusava che l'ho fatto perdere tempo. Però dopo glielo faccio recuperare. Con tutti gli interessi. No, no. Ma nel miraggio. Presidente è qua. Presidente ha detto che gli ho fatto perdere tempo. Sì! No, Patrino! Sì! 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 Ci sono i pianuri a back fino a dopo! Oh, attenzione! Eh, se tu vogliono fuori, gli hai già fatto attenzione! Vabbè, io ti ho andato alle gambe! Le gambe mi stanno mortificando oggi! Eh, qui faccio una delle mortine! Lo so, lo so! Ma qua, qui! Ma qua, qui! Ma qua, qui! Che si festeggia! E allora, la primavera attesa è arrivata oggi, 23 marzo! Temperature, siamo sui 25-26 gradi! È vero! 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 È zo' il tuo gambe! Tadini Ugani... Ecco il camion! Lo andou! Ugana! No, non, non! No! No! Grazie a tutti.